Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo video della giornata Nel weekend ragazzi il palinsesto cambia perché durante la settimana escono sempre due video alle 7 e alle 14 e poi magari anche un terzo la sera se c'è qualcosa di interessante da dire Durante il weekend, tra le partite, orari strani, altri match che vorrei commentare il programma, diciamo che il palinsesto più che il programma, può variare come è variato oggi che non è uscito il video delle 7 è uscita ovviamente la mia analisi, il post partita insieme ad Anthony e adesso esce il mio personalissimo pagellone domani in mattinata, non alle 7 perché non riesco a montarlo in tempo uscirà la reaction e poi magari usciranno anche altri vlog su altre partite ho visto anche il derby di Roma, partita che secondo me dà veramente tanti spunti considerando che insomma la Roma sarà la prossima avversaria del Milan nell'Europa League sono davvero curioso di vedere come andrà quella partita mi raccomando ragazzi commentate questo video indicando il vostro MVP segnatemi chi è, sono curioso perché secondo me tanti meriterebbero di essere MVP dopo la prestazione di oggi qualcuno dirà l'arbitro sicuramente però ci sta sapete che io sono un cazzone quindi mi divertono questi commenti però seriamente indicatemi il vostro MVP, lasciate ovviamente un like come sempre se non siete iscritti rimediate subito perché per me è molto molto importante detto questo direi di partire con i voti quindi nello specifico io andrei da Magic Mike Magnana aspettate che mi apro il mio bloc note se eccolo qua allora Magnana ho scritto spettatore non pagante nel senso che è stato impegnato in due occasioni nello specifico nella prima quando insomma il Lecce ha colpito la traversa lui sembrava essere sulla traiettoria però non la tocca neanche se non ricordo male e poi nel secondo tempo ottima la sua rispinta su Anquist per il resto vi ripeto abbastanza inoperoso ah devo ricordarmi dare i voti perché spesso vi faccio il commentino e poi mi dimentico il voto 6-6 a Megna non ci fosse stata la parata su Anquist avrei dato senza voto Calabria Calabria 6 Calabria 6 l'abbiamo visto più sulla linea mediana come spesso capita che è nel ruolo di terzino destro però insomma fa il suo fa il suo una classica prestazione senza infamia e senza lode riesce ad arginare abbastanza bene sia a banda che d'orgo in avanti si fa vedere poco ma più che altro per una scelta del mister perché insomma sappiamo che spingiamo soprattutto sulla sinistra e quindi sei onesto per Davide Calabria Gabbia 6 anche per lui abbastanza ordinato attento lui ovviamente gioca perché ciao ha avuto un piccolo risentimento una piccola fascite plantare essere tifoso del Mina significa avere una laurea ad honorem in medicina tra elongazione si imparano tantissime cose ti fanno il Milan però vi ripeto prestazione abbastanza tranquilla per Gabbia quindi sei meritato al suo posto Chier dal quindicesimo del secondo tempo dò sei anche a lui bella la chiusura a un certo punto c'era un controchedele e c'è lui con estrema nosciamanza col tacco riesce a bloccare la ripartenza salentina ottimi ovviamente questi minuti in vista soprattutto della sfida europea contro la Roma Tomori sei anche per lui si vede che è in fiducia è bello carico poi lui ha sempre sta grinta anche quando segna Giroud c'è lui che esulta come un pazzo e dà una carica ed una adrenalina pazzesca peccato non averlo contro la Roma per squalifica purtroppo Purtroppo Ternandez sei e mezzo allora di base si vede che gioca col freno a mano tirato secondo me ha un po' paura di farsi male dietro gestisce abbastanza bene la situazione non spinge tantissimo sulla fascia però dal nulla tira quel boli della traversa sta ancora tremando ha tirato da fermo ragazzi non so con quale forza lo abbia fatto ma per poco spacca la traversa grandissima conclusione Dieter Hernandez dal trentottesimo si rivede Terracciano mi ero anche dimenticato della sua esistenza senza voto ovviamente Terracciano passiamo alla linea mediana incredibilmente Mister Pioli nonostante i quattro attaccanti puri in avanti Leao Pulisic Ciuquese Giroud decide di avere una tre quarti un po' più leggerina con Adli e Reinders io pensavo giocasse Musa dall'inizio e invece no Reinders comunque gli do un bel 6 e mezzo la cosa che mi piace tantissimo di Reinders è che vertical a parte che gioca sempre a testa alta e sta roba qua mi gasa tantissimo e poi verticalizza sempre un sacco di verticalizzazione difficilmente di fare il pass questo non significa come dire ostentare oppure fare la giocata inutile lui è molto di sostanza poche chiacchiere e molta sostanza verticalizza davvero tanto infatti nel secondo tempo è arrivata una palla molto bella per Jovic se non sbaglio partita ai suoi piedi scusatemi se sto ricordando male ma a prescindere da quella altre volte verticalizzato e quindi do 6 e mezzo anche a Reinders dal 32esimo Ben Nasser senza voto non ha avuto modo di mettersi in mostra e ha perso una palla abbastanza ingenua però vabbè l'importante è che si è entrato in campo anche qui in ottica minutaggio con la Roma bene così Adli sapete che Adli ha fatto una partita molto strana nel senso che gli do 7 ve lo dico perché secondo me ha fatto una prestazione diciamo 5 e mezzo in realtà perché ha sbagliato tanto ha sbagliato molto più del solito sia in fase di impostazione mi sembrava molto contenuto poche sciabolate sapete che lui di solito quindi era molto timido in fase di impostazione in fase come dire di interdizione anche lì qualche sbavatura di troppo perché sul colpo di testa del giocatore non mi ricordo che ha preso la traversa in Lecce insomma quando ha preso la traversa lì lui se lo perde completamente va a vuoto completamente a vuoto però poi ti fa due assist e quindi come fai a non mettergli 7 il primo assist sul calcio d'angolo sul gol di Giroud e nel secondo tempo quel passaggio meraviglioso ragazzi quel passaggio meraviglioso per Leao se guardate il replay soprattutto dalla camera verticale tipo su FIFA si vede proprio la palla che gira coi giri giusti ed è una goduria per gli occhi quindi 7 ad Adli impreciso ma impreciso e imprevedibile buona prestazione comunque di Adli Ciucuese ragazzi Ciucuese è in forma è in forma fisica e mentale ve l'avevo detto anche nel nel prepartita contento che Pioli abbia deciso di farlo giocare l'avrei fatto giocare a prescindere anche se ci fosse stato l'off su Cic o se avesse giocato bene a sera sulla trequarti io sulla destra avrei dato comunque spazio a Ciucuese perché merita di giocare poi maggior ragione che mancava il trequartista e Pulisic ha giocato al centro si è liberato lo spazio per Ciucuese già dai primi minuti ragazzi pronti via si vedeva che era in palla che era preso benissimo dribbla regale il primo assist per Pulisic inserendosi tra due avversari e in generale a un certo punto fa una una sgaloppata incredibile stava superando tutti come Birilli e stava servendo un altro assist per Rafa Leao però davvero grande grande cuore per Ciucuese e sono contento perché se lo merita era l'unico acquisto estivo che faticava un po' perché Rendez of Cic Pulisic che ve lo dica farà anche lo stesso Jovi Ciocafor tutti hanno lasciato un segno lui a parte qualche squill europeo poca roba in campionato iniziava qualcuno a storciare un po' il naso invece adesso si sta riprendendo nel momento clou della stagione quindi benvenga abbiamo davvero bisogno di tutti Ciucuese compreso e suo anche ho segnato il costato sacrificato per l'espulsione di Krustovic quindi diamo a Ciucuese qualche di Ciucuese nel secondo tempo cala ho segnato anche questa roba qua perché si è visto di meno si è visto solo il suo costato nel secondo tempo nel no lì era ancora nel primo tempo nel secondo tempo invece come dicevo cala cala però ci sta ci sta non facciamone ovviamente un dramma Pulisic ragazzi per me per me lui l'NVP gli ho messo sette e mezzo gli ho messo sette e mezzo dieci gol dieci gol in serie A e che gol ragazzi e che gol col sinistro se la sistema fa quel tiragiro meraviglioso svaria su tutto il fronte offensivo la cosa che mi ha impressionato tanto è il suo continuo sacrificarsi nel recuperare palloni sia in linea mediana che addirittura in fase difensiva questa roba qua ragazzi a me fa impazzire paradossalmente è tornato più adesso che quando gioca sulla destra sarà mica un segnale per Pioli per dire vedi se mi metti qui dietro la punta sulla tre quarti io mi sacrifico anche molto di più magari è un caso però lui lui torna lui è uno che dà una mano però non sempre diciamo così magari spesso anche per direttive di Pioli non sto criticando Pulisic oggi lo ha fatto particolarmente recuperando due o tre palloni davvero molto molto interessanti dal quindicesimo del secondo tempo Pioli ovviamente lo fa riposare bene io avrei fatto riposare tutti a un certo punto anche Leao un'ansia per Leao ragazzi che si facesse male che ve lo dico a fare dal quindicesimo nel secondo tempo Musa entra fa il suo copre il campo recupera un po' di palloni tiene palla la protegge quando la palla va a lui è quasi sempre in banca quindi gli do un 6 tranquillo Leao 7 primo tempo con il freno a mano tirato anche lui ma io l'ho detto in live ma non era una battuta oscurato da Ciucu Eze lo penso lo penso veramente perché nel primo tempo Ciucu Eze ha fatto veramente tanto tanto bene quasi tutte le azioni erano sulla sulla destra a una certa Pioli si è un po' inalberato almeno da quello che ha detto il bordocampista durante la partita perché diceva ok non esagerare però insomma dati una sveglia la sveglia se la dà e decide di segnare il suo settimo gol in campionato il secondo di fila ma è il settimo ora non vorrei aver scritto una puttanata quindi tempo zero signori controllo mi sembra di sì che questo sia il suo settimo sì tredicesimo stagionale e settimo in serie A quindi il buon Leao ha iniziato ha ripreso finalmente a segnare a prescindere dalla prestazione magari non super come dire non super per tutta per tutta la partita si vede che è in fiducia si vede che sta bene si vede che prova l'è giocata la certa si è messa a fare anche sin troppi tacchi per i miei gusti però sta bene sta bene Rafa Leao e secondo me è stato quasi lui a dire a Pioli che non voleva uscire sono abbastanza sicuro di questo Giroud 7 per lui gol numero 13 in serie A segna di testa e quando lo vede esultare così come un pazzo ragazzi mi vengono i brividi perché dico ma guardate se questo dopo aver vinto praticamente tutto Champions Coppa del Mondo eccetera deve esultare così per un gol contro il Lecce con tutto rispetto ovviamente per il Lecce no e sta roba qua la dice la dice lunga sulla qualità professionale di Olivier Giroud ci mancherà ci mancherà non dico altro altrimenti mi viene a male lacrimucce robe varie però voglio fare un contenuto speciale per lo Sparviero perché se lo merita tutto nel posto partita ha fatto anche un riferimento al al suo futuro dicendo insomma non voglio parlare del futuro sono concentrato sul Milan sono un vecchio quello rosso nero quindi sentire lui dire sono un vecchio cuore rosso nero mi ha emozionato tanto dal quindicesimo Jovic questa volta non incide bene nella partita di solito lui entra e riesce sempre a fare bene gli do comunque la sufficienza potrà fare meglio in un'occasione se non sbaglio in quell'occasione dove vi dicevo che c'è stata la verticalizzazione di Reinders però vabbè insomma è entrato in campo l'importante è che lui accumuli un po' di minuti è nulla ragazzi penso di avervi detto penso penso che a sto giro non mi sono dimenticato nessun giocatore sapete che ogni tanto mi dimentico i giocatori oppure mi dimentico di dare i voti a sto giro penso di essere stato abbastanza preciso e puntuale attenzione eccomi eccomi il video finisce qui io vi ringrazio per averlo visionato vi invito ad iscrivervi cliccando qui su questo tastino su questo pallino qua e di vedere altri contenuti che invece vi lascio a destra e a sinistra per adesso è tutto e alla prossima ciao